Per noi la Champions è al massimo, è rimasto l'ultimo vero appuntamento per rimanere tutti insieme. Il gruppo storico siamo io, Marco, Federico e poi c'è Simone. Cassano che è comunque un giocatore sublime a livello di fondamentali e di tecnica. Simone è un tipo che vive il calcio in una maniera passionale. Mercoledì prossimo ovviamente vedremo Roma-Real Madrid. Beh la vedremo qui, a casa mia come sempre, come da tradizione su questo divano. Ci sarà sicuramente anche Simone. Tribuna d'onore Roma-Real Madrid per te. E da solo? Io lavoro, ce l'hai con due miei colleghi, ti vengono a prendere loro. Che gli dici a Mauro? Che dico... Che sono una malaria. Ciao. Vieni. Simone. Mauro. Ma mangi qua o... Fammi ritorno a casa e ti chiamo. Oh, non fa che non vieni però. Ma ma, ti chiamo fra un po', ciao. Va bene. L'ho smarcato fino a questo momento, ho preso veramente un video. Cioè, noi vediamo sempre i partiti dell'anno. Facciamo a Mauro, subito. No, non mi risponde. Simone. Simone. Cosa ci fai? Lo vogliamo dire a tutto lo stadio? Ti sei venuto per un biglietto di rinfora l'antore? Cioè, c'è il trattamento così. Però se è ancora in te, forgi sulle riporte. Se forni, lo vai a prendere e il riporte lo ti porta qui a casa mia, sul mio divano, dove c'è il tuo posto, nelle partite di Champions, a Zantai. Grazie mille, grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Un abrazo. Grazie mille. Grazie a tutti.